Il bivacco Lajin, attrezzato addirittura DCB, in caso di pronto soccorso, un tavolino, diciamo che 3, 6, 9 persone ci stanno a comode, posti letto, sono 6 materassi in totale, ma diciamo che 8, 10 persone ci stanno a mangiare, attrezzato ovviamente, stufa legna, c'è anche, c'è anche la legna di scorta, cioè, voglio dire, è super truccato per essere un bivacco, anche i prodotti per lavare, guarda un po' che roba.